Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale. Oggi Benedetta Parodi ci manda un saluto dalla sua cucina. Successivamente la vedremo impegnata in alcuni trattamenti di bellezza. E' acceso? Sì. Bello, complimenti. Mia pettinatura. Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, è quasi aprile, incredibile. Eppure fa un freddo cane. Stamattina avevo il cappello, non mi sono messa i guanti proprio perché mi vergognavo, ma faceva veramente un freddo pazzesco. Allora, vi ho messo ieri la ricetta di queste focaccine alle patate che sono buonissime. Provate a farle, qui c'è il link e anche in forno si possono fare. E soprattutto, quando andate sul mio canale qui, iscrivetevi perché sono quasi arrivata a 100.000 e a 100.000 mi danno la targa. Allora, visto che Fabio, mio marito, la targa ce l'ha già e io no, aiutatemi. Iscrivetevi al mio canale YouTube, mi raccomando, Benedetta Parodi, così anche io prendo la targa 100.000 e insomma, non voglio mica essere da meno in famiglia perché poi i figli mi prendono in giro. C'è il link, andate a vedere le focaccine. Iscrivetevi, grazie. Iscrivetevi, grazie a tutti. Iscrivetevi, grazie a tutti.